bianco naturale è un'opera del 2017 è il risultato di un laboratorio che si era svolto a cesena con varie persone che mi hanno aiutato a realizzare lavorando in silenzio la lunga collanina che è contenuta nel vaso di ceramica bianco tutto parte dalla carta bianco naturale è anche proprio il nome del colore di certe carte su cui mi piaceva come definizione bianco naturale un bel colore sia la ceramica che la polvere di marmo sono dello stesso colore della carta che carta fatta a mano quindi non è un bianco freddo glaciale ma è un bianco un po caldo rispetto anche al luogo in cui siamo che ovviamente ha una memoria di sacralità mi piace il fatto che a terra è circolare quindi è una sorta anche di mandala impermanente perché sparirà se devo pensare a delle parole qualificanti di questa opera sono il bianco la coralità perché è un'esecuzione a più mani e anche il fatto che è destinata alla sparizione tutto il conto di un po' di energia è un'esecuzione a più di rispettare